C'è un filanito, che sta facendo il giro del web, e che sta certamente indignando tutti gli utenti social. Il giornalista Roberto D'Agostino ha condiviso un video sul proprio profilo Instagram, un repost da un ulteriore account, di un prete che in una chiesa, di cui non si sa la collocazione, durante il sol un momento della comunione, picchia in malo modo tutti i bambini, che sono in fila per ricevere l'ostia. L'irriverente Dago ha postato come didascalia in tralce al post. Raggiungetemi in chiesa proprio per ironizzare sul comportamento a dir poco anticonvenzionale del prete.